Tra i premiati nella sedicesima edizione della festa dello sport giovanile, Davide Traini. Allora, giovane ma già con un riconoscimento importante che in passato ha portato fortuna a nomi lustri dello sport nazionale ed internazionale. Sì, sicuramente io non posso che essere soddisfatto per questo premio perché personalmente è il primo piano premio che mi riconoscono e quindi sono veramente soddisfatto. Posso solo ringraziare lo staff a lei per questo riconoscimento e quindi grazie veramente di tutto. Titolare con il pineto dei miracoli, così come è stato definito l'organico di mister Amaulo, la convocazione con la nazionale di Serie D, una stagione da incorniciare. Sì, è stata una stagione perfetta sotto tutti i punti di vista. Non abbiamo avuto neanche, non possiamo avere neanche un rimpianto perché abbiamo avuto tutto, siamo riusciti a ottenere tutto, sia con la squadra, abbiamo vinto il campionato del Coppa Italia. E personalmente anche questa soddisfazione è in nazionale, quindi non potevo chiedere di meglio. Il futuro di Davide Traini? Per il momento penso agli esami di autorità, poi vedremo. Adesso ancora non so niente, naturalmente spero di poter rimanere in Serie C e coronare questo sogno che ho da quando sono piccolo, di giocare nei professionisti. Il premio nella festa dello sport giovanile, con chi va condiviso? A chi lo dedica? Lo dedico alla mia famiglia e a tutte le persone che mi stanno a fianco e mi supportano in ogni attività.